Karate è un'arte marziale sviluppata nelle isole Ryukyu, oggi Okinawa, in Giappone. Fu sviluppato dai metodi di combattimento indigeni, quali il Te, che significa letteralmente mano vuota, e dal campo cinese. Prevede la difesa a mani nude, senza l'ausilio di armi, anche se la pratica del Kobudo di Okinawa, che prevede l'ausilio delle armi tradizionali Bo, Tonfa, Sai, Nunchaku, Kama, è strettamente collegata alla pratica del Karate. Attualmente viene praticato in versione sportiva privato delle sua componente marziale e finalizzata ai risultati competitivi tipici dell'agonismo occidentale e in versione arte marziale tradizionale per difesa personale. Nel passato era studiato e praticato solo da uomini, ma col passare dei secoli anche le donne si sono avvicinate a questa disciplina. Il Karate fu sviluppato nel regno del Ryukyu prima della sua annessione al Giappone nel XIX secolo. Fu portato sul continente giapponese durante il periodo degli scambi culturali fra i giapponesi e gli abitanti del Ryukyu. Nel 1922 il Ministero dell'Educazione giapponese invitò Gikin Funakoshi Aldo per una dimostrazione di Karate. Nel 1924 l'Università Keio istituì in Giappone il primo club universitario di Karate, e nel 1932 tutte le maggiori università avevano i loro club. In un'epoca di crescente militarismo giapponese, il nome fu modificato da mano cinese a mano vuota, che in entrambi i modi viene pronunciato Karate, ad indicare che i giapponesi svilupparono una forma di combattimento di stile giapponese. Dopo la Seconda Guerra Mondiale Okinawa divenne un importante sito militare statunitense, ed il Karate popolare tra i soldati stanziati sulle isole. Shigeru Egani, capo istruttore del Dojo Shotokan, riteneva che la maggior parte dei sostenitori del Karate nei paesi oltre mare vedeva questa disciplina solo come una tecnica di combattimento. Film e televisione rappresentavano il Karate come un modo misterioso di combattere, capace di causare la sconfitta dell'avversario con un singolo colpo. I mass media lo rappresentavano come una pseudo-arte lontana dalla realtà. SH Shin Argamina disse il Karate può essere considerato come il conflitto in se stessi, o come una maratona lunga tutta la vita che può essere vinta solo attraverso l'autodisciplina, il duro allenamento e i propri sforzi creativi. Nato come arte marziale che insegna il combattimento e l'autodifesa, con il tempo il Karate si è trasformato in filosofia di vita, in impegno costante di ricerca del proprio equilibrio, in insegnamento a combattere senza combattere, a diventare forti modellando il carattere, guadagnando consapevolezza e gusto nella vita, imparando la capacità di sorridere nelle avversità e di lavorare con determinazione e nel rispetto degli altri. Solo quando questo insegnamento verrà compreso appieno, sostengono i suoi estimatori, l'allievo potrà essere veramente libero e realizzato.